Dici che è possibile, Flava? Certo, nel mondo di noi lolline è tutto possibile. E poi ti sei sposata. È vero. Insomma, quella lollina aveva anche un cerchiettino in testa, da gatto. Era Kitty! Quindi era veramente una cicogna. Sì, insomma, mentre dormi ti fa la magia, così non te ne accorgi. Ne sono accorta anche quando dormivo. Mi sa che ho fatto quel sogno. Così è l'ace, non possiamo fermarla in realtà. Beh, ora io dovrei andare a casa. Ho lasciato Medica e mangiava dei biscotti. E avevo paura che gli venne in mano di pancia. Quindi verrò domani a vedere come stai, va bene? Sì, grazie. Flava, ti accompagno alla porta? No, no, non ti preoccupare. Visto che adesso spezzi una piccola lì, non ti voglio nemmeno farla stancare. Quindi vado da sola. Ma vedi che non mi stanco, eh? No, vabbè, è meglio prevenire. Ecco qua. Allora vado. Ciao. Ah, ciao ciao. Può essere davvero possibile? Non saprei. E se chiamo qualcuno che è davvero esperto? Sleepy! Vado a chiamarla. Lei è un dottore, quindi potrà aiutarmi. Questa volta i biscotti non ce ne sono. Perché? Uffa però. Mette a posto. Sono un po' dispettosa. Ovviamente posso io ho fatto dire perché me l'ho messa a posto. Vabbè, che ne so. Chiamata. Ma la sedia era spostata? Franci? Sì? Ma sei stata tu? Sì. Mi fai sempre scherzetti. L'altra volta quello dei biscotti. Adesso questo era la sedia. Dindo. Oh, Sleepy. Sleepy, la porta è aperta. Entra. Arrivo. Ma come hai fatto? Beh, veramente mi ha preso Franci. Non era che... La porta è aperta. No, no. Mi ha preso lei. E quindi sono venuta io dalla clinica. Ho fatto meglio perché se no dovevo camminare davvero molto. E quindi sono apparsa qui perché lei mi ha portato. Grazie, Fran. Prego, Sleepy. Figurati. Allora, dimmi. Che cosa ti senti? Ecco... Beh... Mi sento sempre mal di pancia e un po' di nausea. Beh, vieni, dai. Ti visito. Fammi vedere la tua camera. Sai che ancora non l'ho vista? Davvero? Ah, giusto. Vieni, che te la faccio vedere. Vieni, che te la faccio vedere. Andiamo, vieni. Ecco, è questa. Wow, mamma mia. È bellissima. Wow, il letto. Sì, hai visto? Che bello. Fran, fallo vedere. L'hai fatto tu? Esatto. Ti l'ho fatto proprio io. Adesso levo un attimo le coperte e ve lo faccio vedere. Ecco qua. Vediamo le copertine. Ecco qui. Ecco, allora, questo qui è facilissimo da fare. Serve un po' di cartone, della colla vinilica. Se avete questa tipo gomma piuma, come si dice, vabbè, con i glitterini. Quale tappeto con i glitterini. Questo qui l'ho preso dagli occhiali delle LOL, cioè, nella confezione. L'ho ritagliato, però non volevo rovinare la corona e quindi non ho tagliato questi spazzetti. Vabbè, mi piace così. Servono tutti questi tipi di smalti. Qua lo smalto argentato. Poi qui avevo tagliato un po'. E ho messo la gomma piuma così si regge meglio. Però sotto, vabbè, è un po' bruttino, però non fa niente. Ora ve li metto i cuscinetti. Al contrario. Scusa, leis. Ecco qui. E lo mettiamo qua. Ecco qui. Allora, se vi piace, ditemelo che vi farò anche un tutorial. E allora, leis, sdraia su questi sollettino, su. Sì, allora, che cosa devo fare? Io ti visino il frattempo, va bene. Allora, vediamo. Allora, comunque, io ti consiglio di fare almeno un test di gravidanza. Beh, già l'ho fatto. Allora, sì, è vero. Oh, che bello. Che bella notizia. Complimenti. Se vuoi sapere se è maschio o femmina, vieni alla mia clinica, no? Va bene. Devo ammettere che un po' di curiosità ce l'ho. Poi devo preparare anche il lettino. Per sapere se è maschio o femmina. Non è che io lo potrei fare azzurro. Se poi è una femminuccia. Esatto. E se io lo fai rosa. Il maschietto non sarà molto contento se sarà maschio. Esatto. Quindi, grazie, Sleepy. Vuoi che ti accompagni? Oh, no, no, no. Non ti preoccupare. Vado io. Che poi tu ti devi riposare. Grazie. Ciao, Lace. Ciao, grazie. Beh. Cambieranno un po' di cose, però sono molto felice. Che bello. Lace. Oh, no. Leder, sono qui in camera. Allora... Oh, no, 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 no. Lace, Sleepy mi ha detto che stavi sul letto. Ma ti senti male? Oh, no. Vedi, ti dovrei parlare, veramente. Eh? Beh, di che cosa? Siediti, però. Va bene. Prendo la sedia. Allora, Leder, vedi? Non so se ti ho mai raccontato di questo strano sogno. Quale sogno? Allora, un... Vabbè, un giorno, anzi, una notte, penso, non ricordo. Ah, no, era di pomeriggio, sì. Avevo fatto le polizie ed ero stanca e mi sono addormentata sul divano. Sì, ricordo. E ho fatto uno strano sogno. Che sogno? Una lollina con... una cosa in mano. E cosa, Lace? Un fagottino. Di cibo? No. Ah, e allora di cosa? Di nessuna cosa, non è una cosa. È un... Tipo una lollina. Piccola. Di almeno qualche... qualche chilo. Quattro chili. Due. Calda. Morbida. Cosa? Una lillina, Leder. Una lillina. E allora? Leder? Eh? Aspettiamo una piccola lillina. Leder! Eh... Sto bene. A me non sembra. Dai, alzati. Lace... Ma... Che bella notizia! Davvero? Lo pensi veramente? Sì. Che bello. Anche se adesso dovremmo organizzare tutto. La cameretta... Veramente avrei un'altra idea. Che idea? Allora, io vorrei farla dormire qui per un po'. Poi fino a che lei crescerà, insomma. Quando vorrà la cameretta gliela faremo. Gliela prepareremo. Prima che nasce. Poi... Faremo la cameretta quando la vorrà. Non ho capito bene. Oh, scusa. Mi sono confusa. Prima che nasce, gliela prepareremo la cameretta. Sarà a dormire un po' con noi. Cioè, prenderemo il lettino e lo metteremo qui. Poi, invece, quando vorrà la cameretta, la sposteremo lì. Sì. Bella idea. Che bello, Lace! Complimenti! Tanti auguri a questo bel pancino! Allora, avete sentito? Lace è in dolce attesa. Quindi, Lace auguri a voi due. E allora, io vi aspetto con il prossimo video. Vi mandiamo un bacione e un abbraccio. Un abbraccio, eh? E al prossimo video. Ciao!